Musica Scacco matto ai clan dell'agro, ieri blitz di polizia, guardia di finanza e carabinieri, arresti e sequestri. Diocesi di Sala Consilina, ieri l'ordinazione episcopale di Monsignor Cona, nuovo vescovo titolare della Diocesi di Sala Consilina, presente anche una delegazione salese. Banca Montepruno, in 10 anni più che raddoppiati i numeri, il 2022 hanno dei record, oltre un miliardo di raccolta, utile primo semestre 4,3 milioni. L'Istituto Sacco partono gli Open Day, il 10 e 18 dicembre, il 14 e 22 gennaio. Natale nel Vallo di Diano, al via la terza edizione di Adotta una letterina. Ben trovati con l'appuntamento con l'informazione di Uno News in apertura. La cronaca, un'ampia operazione di contrasto alla criminalità organizzata. Ieri ha colpito due associazioni per delinquere di stampo camorristico, tra loro federate, influenti sul territorio dell'agronocerino sarnese. C'è stato l'arresto, il contestuale sequestro di beni a carico di 25 soggetti indagati a diverso titolo per i reati di associazione di tipo mafioso, tentato omicidio, estorsione, porto e detenzione legali di armi, illecita concorrenza con minaccia o violenza e autoriciclaggio. Nonché ancora il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tutte fattispecie aggravate dal metodo e dalle finalità mafiose. Vediamo. Sono 25 in totale le persone colpite da ordinanze cautelari, 6 ancora latitanti emesse dalla DDA ed eseguite in un'operazione interforze coordinata dalla procura di Salerno guidata da Giuseppe Borrelli, che ha visto al lavoro Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza per fermare due associazioni camorristiche, l'una il clan facente riferimento a Francesco Fezza e Andrea De Vivo, l'altra con un gruppo facente capo a Rosario Giuliano, detto minorenne operante. Nel territorio dell'agronocerino sarnese, tra i comuni di Pagani, Nocere Inferiore, San Marzano sul Sarno, scafati ma con ramificazioni anche in alcuni centri della provincia di Napoli. Le accuse nei loro confronti sono di tentati, omicidi, estorsione, traffico di droga, porto e detenzione illegale di arma, illecita concorrenza con minacce e violenza. Le indagini che nel corso dei mesi scorsi hanno visto già diversi interventi delle forze dell'ordine con centinaia di arresti, hanno messo in luce un'attività di consulente aziendale del Giuliano, che aveva convinto il clan Fezza a riorganizzare le piazze di spaccio della droga, puntando ad una certa autonomia nell'approvvigionamento, ma imponendo il pagamento di una tangente al clan Fezza. Particolarmente pervasiva anche l'attività posta in essere al fine di inserirsi nel sistema economico. A tal proposito, il procuratore Giuseppe Borrelli, nel corso di una conferenza stampa, che si è svolta questa mattina alla cittadella giudiziaria, ha ricordato quanto avvenuto durante il periodo del lockdown 2020. Il clan avrebbe imposto nel settore della sanificazione, arrivando anche al tentativo di omicidio di Vincenzo Calce, imprenditore del settore, la vincita dell'azienda Pedema, gestita da Alfonso Marrazzo, pur applicando quest'ultimo prezzi più alti. Ad offrire consulenza ai clan, anche un noto commercialista, al quale è contestata l'ipotesi di concorso esterno. Il clan Fezza De Vivo avrebbe favorito il reimpiego dei proventi illecitamenti accumulati in Spagna, dove, tra le altre cose, è stata avviata un'attività di bar-pasticceria, oggi sequestrata insieme ad una serie di altre attività e proprietà, per un valore certamente superiore al milione di euro. Ritornando alla figura di Rosario Giuliano, scarcerato nei primi mesi del 2020 ai residenti appagani, l'indagine ha messo in luce anche la collaborazione con Francesco Sorrentino, detto Giotto, che gli aveva consentito di controllare le 10 diverse piazze di spaccio tra pagani e nocere inferiore. L'esistenza di una comunione di interessi è emersa anche in relazione al tentato omicidio di Domenico Chiavazzo, titolare della cooperativa di logistica denominata Omega Service, dal quale il clan aveva tentato di ottenere il pagamento di una somma pari a 200.000 euro. Sono ancora in corso approfondimenti su 210 rapporti bancari intestati agli indagati, tra gli arrestati che un collaboratore di giustizia, Giacomo Derisi, attualmente sottoposto agli arresti domiciliari in località protetta, tra i collaboratori anche Giovanni Orefice. E nel corso della conferenza stampa svoltasi nella mattinata di ieri per illustrare l'operazione è emersa anche una nuova strategia adottata dalla Procura di Salerno. Ad ogni provvedimento cautelare e personale sarà abbinato un provvedimento reale di aggressione al patrimonio. Vediamo. Il processo patrimoniale può creare un vero documento a queste organizzazioni criminali, quindi la strategia della Procura sotto la nuova direzione del Procuratore Borrelli è quella che ad ogni provvedimento cautelare e personale sarà abbinato un provvedimento cautelare, perché abbiamo verificato che parecchie volte l'inerzia di tutte le istituzioni operanti del mondo della giustizia che hanno consentito l'accumulo di patrimoni inauditi. Faccio riferimento, perché sono due provvedimenti già pubblici, alle misure di prevenzione, perché non avevamo più una misura giudiziaria applicabile, quindi ci siamo dovuti a forza ancorare al procedimento di prevenzione, uno suolto dalla Guardia di Finanza e uno dalla Polizia di Stato, con riferimento alle posizioni di Citarella e da Diletta, dove complessivamente siamo arrivati a sequestrare in via di prevenzione quasi 500 milioni di euro. Questo vuol dire che lo Stato c'è, nei nostri territori lo Stato è presente, abbiamo delle sezioni investigative all'altezza di affrontare qualsiasi tipo di indagine e chiudo il mio intervento con un appello che rivolgo agli imprenditori, abbiate il coraggio di denunciare, noi ci siamo, la Procura in prima linea è presente, fate denuncia, denunciate il vostro Stato di soggezione all'estorsione. Noi abbiamo valorizzato quanto fatto dalla Polizia di Stato e dall'arma dei Carabinieri sotto il nostro profilo economico e finanziario, perché siamo convinti ed è convinto lo Stato che l'aggressione a queste consorterie passa attraverso il contrasto patrimoniale. E devo dire che è emersa anche un'altra attitudine di queste consorterie criminali, quella di investire e fare riciclaggio dei loro proventi acquisiti su questo territorio all'estero. Forse pensano che non ci riusciamo ad arrivare, ma ci arriviamo. Nel sistema paganese si presenta oggi un modello organizzativo che sotto la direzione della Procura vede tre forze di polizia operare congiuntamente e in maniera assolutamente coordinata su un unico versante. È chiaro che la complessità della criminalità organizzata, che sicuramente continua a trovare l'humus in quello che purtroppo continua a essere attività di spaccio, abbiamo sentito, abbiamo parlato di dieci piazze di spaccio, poi è oggetto di un rinvestimento, di un inserimento, di un'attività economica che va a depauperare il territorio. Ancora cronaca, incidente questa mattina in Via Agni a Polla, si sono scontrate due auto e una di queste a seguito del violento impatto è finita in una piccola scarpata che costeggia la strada. Il bilancio è di due feriti, un medico e una ragazza. Fortunatamente le loro condizioni non desterebbero comunque preoccupazione. Le indagini che sono in corso diranno qual è stata l'esatta dinamica di quanto accaduto. E cambiamo argomento. La sede titolare della diocesi di Sala Consilina ha il nuovo arcivescovo. Nella giornata di ieri, presso la Basilica di San Pietro a Roma, è stato ordinato arcivescovo dal cardinale Parolin, Monsignor Luigi Roberto Cona, nominato nel corso della celebrazione arcivescovo titolare della diocesi di Sala Consilina. Vediamo. Nel pomeriggio di ieri 2 dicembre una delegazione di Sala Consilina e del Vallo di Diano ha partecipato all'ordinazione episcopale di Monsignor Luigi Roberto Cona, nominato da Papa Francesco arcivescovo titolare della diocesi di Sala Consilina. Dal 2018 la sede titolare di Sala Consilina era priva del suo vescovo dopo il decesso dell'arcivescovo Monsignor Gerard Bernachi, vescovo ausiliario in Polonia. A distanza di 4 anni, quindi, all'estinta diocesi di Sala Consilina, è stato assegnato un nuovo arcivescovo che per la sua ordinazione episcopale, avvenuta presso la Basilica di San Pietro e presieduta dal segretario di Stato di sua Santità, Cardinale Pietro Parolin, ha voluto accanto a sé anche una delegazione del Vallo di Diano e di Sala Consilina, essendo stato scelto come arcivescovo titolare della diocesi salese. Anche il territorio ha quindi partecipato alla cerimonia con il vescovo della diocesi residenziale di Teggiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca, Don Gabriele Petrocelli, parroco della Chiesa della Santissima Trinità, e una delegazione della comunità di Sala Consilina. La diocesi di Sala Consilina è una diocesi estinta, anticamente denominata diocesi marcelliano e consilino. Dal 1968 è stata annoverata tra le sedi vescovili titolari, che si differenziano dalle sedi vescovili residenziali, in quanto non vi è un governo ecclesiastico su un determinato territorio. Si tratta di sedi di diocesi che in passato avevano ricoperto il ruolo di sedi residenziali, successivamente poi estinte. Sala Consilina un tempo era sede di diocesi residenziali con un vescovo presente e con giurisdizione. Dal 1968, con l'estinzione della diocesi, è diventata sede titolare a cui viene comunque assegnato un vescovo. Si tratta prevalentemente di prelati che esercitano i loro uffici presso la Curia Romana e che per ricoprire tale incarico sono ordinati i vescovi a cui, di conseguenza, deve essere assegnato una diocesi e, in tali casi, sono ordinati i vescovi titolari di diocesi estinte. Monsignor Luigi Roberto Cona ricoprirà l'incarico di nunzio apostolico in El Salvador. Un legame è quello con la diocesi di Sala Consilina che Monsignor Cona ha voluto comunque rafforzare, invitando alla cerimonia di ordinazione anche la comunità salese e il vescovo della diocesi di Tegiano Policastro, padre Antonio De Luca, che insieme a Don Gabriele Petrocelli e a un gruppo di fedeli, hanno raggiunto Roma e la Basilica di San Pietro per rendere omaggio al nuovo vescovo titolare di Sala Consilina. Il 2022, che si accinge a terminare, è stato un anno importante per la Banca Montepruno che in questi giorni è alle prese con i dati di bilancio parziali, ma fa anche un'analisi degli ultimi dieci anni. Dal 2012 al 2022, numeri più che raddoppiati in tanti aspetti ed eccezionali i dati parziali di bilancio. Vediamo. Ultimo mese dell'anno ed è tempo di bilanci. Bilanci che per la Banca Montepruno sono sorprendenti, soprattutto paragonati ai numeri che l'Istituto di Credito, diretto da Michele Albanese, esprimeva nel 2012. A distanza di dieci anni, la Banca Montepruno, grazie al duro lavoro e all'attento studio delle dinamiche dei territori, unitamente all'attenzione verso il cliente e verso le comunità, fa registrare un netto balzo in avanti con numeri che si sono più che raddoppiati. Nel 2022, anno in cui l'Istituto di Credito ha celebrato i 60 anni dalla sua fondazione, ha raggiunto successi e quote che fino a dieci anni fa erano impensabili e neanche ipotizzabili, non solo per la diffusione e la presenza, anche a livello nazionale della Banca come esempio virtuoso, ma anche per i numeri di bilancio che si appresta ad illustrare e che parlano di una raccolta complessiva che ha ampiamente superato un miliardo di euro. Nell'analisi consueta di fine anno, i vertici della Banca Montepruno, in particolare il direttore generale Michele Albanese e la presidente Anna Miscia, confrontando i dati degli ultimi dieci anni, hanno potuto constatare con soddisfazione il crescente successo dell'Istituto di Credito, merito, come hanno avuto modo di commentare, di duro lavoro quotidiano, costanza, tenacia, apprendimento, studio, tanti sacrifici e soprattutto amore per il lavoro che si fa. I dati diffusi dall'Istituto di Credito rilevano che il numero di filiali sul territorio in dieci anni è passato da 9 a 18, quindi raddoppiato. Più che raddoppiati invece i numeri per quanto riguarda i comuni di competenza, che sono passati dai 44 del 2012 a 96 nel 2022, numero di soci che in dieci anni sono passati da 1264 a 2849 e il numero dei dipendenti che dai 43 occupati nel 2012 sono arrivati a 122 nel 2022. A ciò si aggiungono i numeri di bilancio al momento ancora non definitivi che, oltre a mettere in evidenza l'ampio superamento della soglia di un miliardo di euro per la raccolta complessiva in questo anno in cui ricorre il sessantesimo anniversario della Banca Montepruno, parlano anche di un aumento della raccolta indiretta dell'82% in appena 4 anni. Gli impieghi a novembre 2022 hanno raggiunto quota 57 milioni, mentre a giugno 2022, quindi nel primo semestre dell'anno, la Banca Montepruno ha fatto registrare un utile netto semestrale record di 4,3 milioni di euro. Storia di un successo non arrivato a caso, è il commento dei vertici. Il successo arriva se sei umile, se ami il tuo lavoro, se lavori con passione e serenità, cercando di non diventare un uomo di successo ma piuttosto un uomo di valore. Tutto questo, concludono dall'Istituto di Credito, appartiene alla filosofia della Banca Montepruno. E ora alla scuola, partono gli open day dell'Istituto Sacco di Sant'Arsenio per far conoscere la scuola diretta da Rosaria Murano. Quattro le giornate in programma, si partirà il 10 dicembre, ancora dicembre un altro appuntamento il 18, mentre gennaio 2 gli appuntamenti in programma il 14 e 22. Vediamo. Partono gli open days all'Istituto Sacco di Sant'Arsenio per far conoscere la scuola diretta da Rosaria Murano. Quattro le giornate in programma, 10 e 18 dicembre, 14 e 22 gennaio. Quattro pomeriggi, dalle ore 16 alle ore 20, le porte nei plessi di Via Florenzano e Piazza Europa resteranno aperte per i ragazzi di terza media e le loro famiglie, che potranno così conoscere gli indirizzi di studio proposti e la struttura scolastica, confrontarsi con la dirigente, i docenti e gli alunni che già frequentano la scuola. Sarà un tour attraverso aule, sale e laboratori per scoprire le modalità formative e le attività, anche extracurriculari offerte, che consentono all'Istituto Sacco di garantire un'adeguata formazione ai propri allievi sia per un immediato inserimento nel mondo del lavoro, sia per proseguire in corsi di laurea specifici. Tre, gli indirizzi di studio e le loro diverse articolazioni. Si può scegliere tra servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, l'Istituto Tecnico Economico e il nuovissimo indirizzo Odonto Tecnico, attivo da quest'anno, da settembre 2022, unico nel territorio del Vallo di Diano e del Cilento. I ragazzi che quest'anno frequentano la terza media sono chiamati a partire dal 9 gennaio a scegliere il percorso di studi da seguire e che dovrà formarli per il futuro lavorativo o universitario. Nei pomeriggi del 10, 18 dicembre, 14 e 22 gennaio, la dirigente scolastica Murano, i docenti e gli alunni del Sacco saranno a disposizione di famiglie e ragazzi per raccontare la scuola e quali sono gli sbocchi occupazionali e universitari a cui prepara. E ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità tra poco. Bentornati con la seconda parte del nostro Tg. A Castellabate è stato istituito un ufficio ad hoc per supportare e assistere la cittadinanza nella delicata fase di ricostruzione messa in sicurezza e ripresa dell'intero territorio comunale dopo l'alluvione che ha colpito l'aria il 19 e 22 novembre scorso. Vediamo. Un ufficio speciale strategico temporaneo per definire tutti i procedimenti tecnico-amministrativi relativi agli interventi emergenziali post alluvione del 19 e 22 novembre scorso. È quanto istituito a Castellabate dove con apposita delibera di giunta si è proceduto a creare un ufficio ad hoc proprio per supportare e assistere la cittadinanza in modo diretto e concreto in questa delicata fase di ricostruzione messa in sicurezza e ripresa dell'intero territorio comunale. La nuova struttura dovrà gestire le richieste di indennizzo relative a banche dati, redigere ordinanze e decreti inerenti all'evento, gestire pratiche di assistenza alla popolazione e verifica dei requisiti, curare tutte le attività tecnico-amministrative connesse alla concessione dei contributi e alla conclusione dei lavori di messa in sicurezza sull'intero territorio. Questa calamità naturale ha causato ingenti danni ad abitazioni, strutture e strade. Siamo ora in una fase assolutamente delicata in quanto ci troviamo a dover aiutare e supportare le tante famiglie ed attività in difficoltà. Quest'ufficio sarà un valido punto di riferimento sia internamente per l'intera macchina amministrativa, per l'espletamento di pratiche, rendiconti ed attività specifiche, sia per la cittadinanza intera che avrà la possibilità di essere seguita e supportata concretamente, afferma il vice sindaco Luigi Maurano. La nostra priorità in questo momento è essere vicini ai cittadini, aiutandoli a superare le difficoltà causategli da questa immane calamità naturale. Riusciremo a rialzarci più forti di prima, dichiara invece il sindaco Marco Rizzo. Tra i tanti progetti con cui l'associazione San Filippo Fighters prova a finanziare la ricerca e contemporaneamente sensibilizzare sulla sindrome di San Filippo, c'è un progetto che coinvolge le squadre di calcio locali del Vallo di Diano. in prima persona i bambini e ragazzi affetti dalla sindrome per dar loro modo di calpestare un campo da calcio e contemporaneamente raccogliere fondi mettendo all'asta la maglia del capitano della squadra. Uno dei match days a Sala Consilina si terrà domenica 4 dicembre alle ore 15, vede affrontarsi allo stadio comunale Osvaldo Rossi, Pro Sala Football Club e Unione Sportiva Pollese 1923. La sindrome di San Filippo è una malattia rara e neurodegenerativa che colpisce i bambini privandoli progressivamente di tutte le capacità acquisite nei primi anni di vita. Nel Vallo di Diano è conosciuta per la storia del piccolo Michele, mamma Erika di Sala Consilina. La partita in programma domani alle ore 15 sarà occasione per conoscere la realtà dell'associazione San Filippo Fighters e donare un contributo per la ricerca. Andiamo avanti, restiamo in tema di solidarietà. Nel Vallo di Diano torna un Natale, per Natale adotta una letterina, l'iniziativa dell'associazione Onlus Ascoltami che giunge alla sua terza edizione. Vediamo. Anche quest'anno l'associazione Ascoltami Onlus, che opera nel Vallo di Diano con lo scopo di aiutare bambini e persone speciali, scende in campo per Natale con l'iniziativa Adotta una letterina. Siamo liete di presentarvi il nostro Natale, e si legge sulla pagina Facebook dell'associazione. La terza edizione di Adotta una letterina. Grazie al vostro aiuto siamo riusciti ad ottenere numeri importanti. L'anno scorso abbiamo girato il Vallo Intero, da Sanza ad Auletta, 180 meravigliosi bambini raggiunti. Sosteneteci, l'appello, diventando il nostro meraviglioso Babbo Natale, siamo certe che i nostri Elfi saranno impegnatissimi. E così, per il terzo anno consecutivo, torna la bella iniziativa che nelle due precedenti edizioni ha registrato molte adesioni permettendo di regalare un sorriso a tanti bambini e alle loro famiglie. È nato tutto in punta di piedi. Tre anni fa, racconta Giulia Iannuzzi, presidente di Ascoltami Onlus, e poi l'iniziativa è cresciuta. L'anno scorso abbiamo accontentato ben 180 bambini in tutto il Vallo di Diano. Tanti di loro hanno scritto la letterina Babbo Natale e per tanti altri ci è stato suggerito il regalo da portare sotto l'albero. Sapevamo inoltre che c'erano alcune famiglie che stavano vivendo un momento di difficoltà e lì Babbo Natale è stato un po' più generoso, portando anche un sacchetto di spesa. Giulia Iannuzzi ha poi spiegato che lo scorso anno anche alcune scuole del territorio hanno sostenuto l'iniziativa raccogliendo fondi in classe per donare un tablet ai bambini che ne avevano fatto richiesta. La richiesta che facciamo al Babbo Natale che aderisce all'iniziativa, spiega Giulia, è proprio quella di adottare una letterina e quindi di comprare il regalino desiderato. Noi mamme dell'associazione poi ci occupiamo di fare la consegna. È un'iniziativa bellissima, conclude, perché mette in collaborazione persone e associazioni con il solo obiettivo di far felici questi bambini. A Sala Consilina prenderanno il via domani 4 dicembre gli appuntamenti in programma per questo Natale 2022. Gli appuntamenti sono il cartellone di appuntamenti, è stato programmato in sinergia dall'amministrazione comunale e dalle associazioni locali con il supporto della Camera di Commercio di Salerno e di Confesercenti. Vediamo. Sarà Babbo Natale ad aprire il ricco cartellone di appuntamenti natalizi promossi a Sala Consilina dall'amministrazione comunale e dalle associazioni locali che in sinergia e con spirito collaborativo hanno dato vita ad una serie di appuntamenti tra divertimento, tradizione, cultura, sport e spettacolo. Il ricco programma che si concluderà il 5 gennaio è stato organizzato grazie anche al supporto della Camera di Commercio di Salerno e di Confesercenti che hanno sostenuto l'iniziativa. Un mese intenso di attività nel centro salese che si aprirà domani, 4 dicembre, per concludersi a gennaio e che ha visto la collaborazione attiva delle associazioni ciascuna delle quali si occuperà dell'organizzazione di un evento. Ad aderire all'invito dell'amministrazione comunale salese sono stati Io Centro, Assocom, Associazioni Allegra Core, Associazione Amici del Presepe, Associazione Ragazzi di San Rocco, Federica Capoeventi, Forum dei Giovani di Sala Consilina, ASD Ludanze, Parrocchia di Sant'Anna, ASD Polisportiva Basket Sala Consilina 1978, Associazione Arte e Mestieri Diego Gatta. Si partirà subito alla grande con l'arrivo presso l'aula magna delle scuole primarie di Sala Consilina di Babbo Natale con la fabbrica di Santa Claus, nell'evento proposto da Federica Capoeventi. L'associazione Allegra Core ha puntato sulla tradizione proponendo per l'8 dicembre il Falò dell'Immacolata e per il 13 dicembre il Falò di Santa Lucia che si terranno rispettivamente in località San Raffaele, l'8 e il 13 in Piazzetta Gracchi. Gli altri appuntamenti prevedono il 9 dicembre, presepi in mostra, dal 9 all'11 dicembre io c'entro a Socom, porterà il trenino natalizio per le vie di Sala Consilina. Il 17 e 18 dicembre, presso il campo sportivo Svaldo Rossi, ci sarà il volo vincolato della Mongolfiera. Il 18 il mercatino di Natale presso i Giardinetti. Il 22 spettacolo di danza al Teatro Scarpetta. Il 26 uno spettacolo di beneficenza, sempre al Teatro Scarpetta, dove si svolgeranno altri eventi artistici nei giorni del 28 dicembre e 4 gennaio. Spazio allo sport il 27 dicembre con una mattinata di basket e il 29 con un appuntamento dedicato ai giochi da tavolo al Palazzingaro. Si concluderà con il presepe vivente a cura di arti e mestieri Diego Gatta in programma il 5 gennaio in località Santo Stacchio e Santo Stefano. Ed era questo l'ultimo servizio di oggi, io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi e una buona domenica. Grazie a tutti.